Ecco, potete chiamarmi Rambo, se volete, a 38 anni ho superato due malattie mortali. Ilaria ride perché è l'unico modo che conosce per superare le difficoltà. Sconfitto un tumore diversi anni fa, adesso sta combattendo contro il Covid-19. Da 20 giorni è in isolamento, in un appartamento a Madrid, dove è rimasta al termine di un viaggio per non mettere in pericolo la sua famiglia in Italia. Il 12 marzo mi sono sentita poco bene, mi hanno portato il pronto soccorso, mi hanno detto che ce l'avevo e di stare tranquilla che avevo la forma lieve perché ero giovane. E che sintomi avevi? Febbre alta, vomito, diarrea e mal d'orecchio. E poi cominci a respirare sempre più, con sempre più fatica. Adesso il mio è un lusso che parlo così, non riuscivo nemmeno a dire due parole. Per i casi come Ilaria il protocollo spagnolo non prevede il ricovero in ospedale, fornisce la terapia, una macchinetta dell'ossigeno e obbliga poi a rimanere a casa. E ora come stai? È sempre meglio. L'11 aprile io festeggio il giorno in cui mi hanno curato dal tumore e ho deciso che festeggio pure che mi sono curata dal corona. Lo vinceremo ridendo.